Allora è cambiata la direzione dell'azienda sanitaria e tutti pensano cosa succederà, che cambiamento, bordon che viene dal Veneto. Avete presente quelle persone che ci sono molte volte al fianco della strada anziana e gli scorre la testa e tutti dicono «Oh, è il gal mal cadu, le veccio, sta male?» No, gli scorre la testa perché gli stufi in un ballon pieno, tanto per parlare se c'è, e gli scorre la testa e non cambia niente. Non cambierà niente neanche con Bordon, con il signor Paolo Bordon. Perché il problema della sanità, lo ripeto, va preso per le corna. Allora in una famiglia quando ci sono dei problemi economici, che cos'è che si fa? Fa i conti, cominciano a dare, quanto arriva lo stipendio, quanto costa la roba, quanto costa la luce, quanto costa la macchina, quanto costa il telefonino, è giù di questo passo. Ma il problema della sanità è un altro, il problema della sanità è un problema troppo importante. E voi direte, ma Tamanini insiste, insiste, insiste. Il problema della sanità va preso per le corna, bisogna incominciare dalla base e con base c'è una parola che si avvicina, la medicina di base. Lì è il punto dove mi piacerebbe che il nuovo direttore o segretario della nuova azienda sanitaria prendesse in mano la situazione. E l'augurio, l'augurio che io faccio a questo bordone, non ascolti i politici, non ascolti, vada dal popolo, la mia fissazione, dalla gente bisogna andare e sentire dalla gente che cosa vi dice quando chiamano la guardia medica il sabato e la domenica. cosa dice la gente? Andate a vedere, vada signor direttore generale e chieda o telefoni magari un venerdì pomeriggio per vedere. E perché la classe medica, secondo il mio parere, anziché inveire contro i politici che prendono i provvedimenti e essere manipolati da una classe politica che non capisce nulla se non i voti che gli interessano. Non si siedono loro a un tavolo e fanno autocritica e non si danno loro una regolamentazione e non pensano loro a sostituire la guardia medica e non pensano loro a migliorare il servizio di base della medicina perché lì è il punto fondamentale, lì è dove bisogna mettere mano, non solo negli ospedali ma lì perché la medicina di base è il filtro più importante, sono quelli che vanno nelle famiglie, sono le prime persone, prime persone e loro parlano tanto di prevenzione. Allora vorrei dire alla classe medica, prevenzione, cominciate a farla su di voi la prevenzione e questo vale per i farmacisti e vale per tutta una classe direi intellettuale italiana che ha sempre finito, ha sempre finito col farsi fare delle leggi sbagliate perché non hanno mai applicato la regola del calcio che è fondamentale, chi anticipa segna gol, chi anticipa segna gol, se no se è sempre in difesa e se corre lì, ho detto a fare una barca di gol perché non si è giocati in anticipo. Allora signor Paolo Bordone, che augurio può dare questo porveccio? E che danno augurio di andare a vedere, di venerdì sera chiamare lui la guardia medica, chiamare, inventarsi un'urgenza, farseli venire e vediamo che cosa trarrà di conclusioni. E poi caro Bordone, mi creda, io ho il pallino fisso e lì lo ripeto, l'ospedale di Trento è come una fabbrica che lavora a ciclo continuo, non si può chiudere il venerdì e riaprire il lunedì e fare solo le urgenze, l'ospedale Santa Chiara di Trento deve lavorare a tempo pieno, come in America, lei lo sa benissimo, lei lo sa benissimo perché lei ha diretto uno di questi ospedali che lavora a ciclo continuo e quindi bisogna che l'ospedale di Trento alle 8 incomincia il primario di chirurgia e lavora fino alle 4 con tutta la sua equipa, alle 4 subentra un'altra equipa uguale e l'ospedale continua e alle 10 arriva l'altro e l'ospedale lavora tutta la notte come fosse giorno. Questo è un sistema sanitario al quale noi dobbiamo fare riferimento, che è il sistema di paesi evoluti e i paesi evoluti, l'America dal punto di vista sanitario, non avrà la sanità buona, ma dal punto di vista della chirurgia eccetera ci ha insegnato tante cose. Egregio Paolo Bordon, un augurio sincero da un farmacista di vecchia data.